Buongiorno, buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, lunedì 12 dicembre 2016, ovviamente ripercorreremo buona parte della domenica calcistica di ieri con il Teramo che in Lega Pro ha pareggiato a Parma, un punto sicuramente positivo come risultato e come prestazione per la squadra bianco-rossa e poi tanta serie di con le vittorie di San Nicolò, Vastese e Avezzano, l'Aquila che rimugina per il pareggio interno con il Trestina anche se la vetta è un filino più vicina. Chiaramente la prima parte sarà dedicata alla cronaca con le pagine delle testate nazionali e locali, chiaramente grande spazio all'incarico avuto ieri dal capo dello Stato Mattarella, dall'ex ministro Gentiloni di formare la nuova squadra di governo. I quotidiani nazionali daranno diverse letture chiaramente di questo avvenimento. Possiamo iniziare intanto sfogliando le prime pagine del centro e poi anche quella del messaggero Abruzzo. Qui siamo all'edizione teramana del centro che comunque apre con il titolo relativo all'incarico conferito all'ex ministro Gentiloni. Gentiloni ci prova, consultazioni avviate per il nuovo governo, definire le regole elettorali e parte il toto ministri. Poi ancora i nodi del PD, Renzi si prepara al congresso, poi le primarie. L'opposizione, Movimento 5 Stelle e Lega dicono scenderemo in piazza. In basso, in Abruzzo 35 mila casi, tassi euribor, sentenza dell'Unione Europea, le banche rimborsino le famiglie. Trasporti regionali, treni, debutte il nuovo orario, bus tua, nuove corse per Bologna. Poi i richiami, siamo qui nel Terramano a Grasciano, nel comune di Notaresco, Circiu. Circiu, rifiuti radioattivi, c'è l'inchiesta. Mancati controlli, il caso è sul tavolo del pubblico ministero Sciarretta. A Castiglione la BCC festeggia un anno storico con i soci. Terramo, Almazzini, la scuola per neuroradiologi. E poi per lo sport, Terramo un bel punto a Parma. E in dir, San Nicolo vola da solo in testa alla classifica. Per il basket di A2, il Roseto travolge Iesi e ora sogna la Coppa. L'edizione di Chieti, chiaramente in gran parte la prima pagina strutturata come abbiamo visto. Per quanto riguarda i richiami di cronaca, di spalla, ecco qui Chieti, Megalo 2, Alvia, i lavori per l'argine, le ruspe sulla sponda destra del fiume Pescara, stanno rinforzando l'area in vista della costruzione del centro commerciale. A Pretoro, piste distrutte, denunciato l'uomo in jeep. A Vasto, accoltellata dall'ex, la verità da due perizie. Poi per lo sport, Vastese ha un punto dalla vetta, i biancorossi si impongono di misura. Il Chieti travolto, basket e volley di A2, Proger resa nel finale. Grande sieco, ma non basta. Prima pagina dell'edizione aquilana, ecco qui i richiami di cronaca. L'Aquila a scuole ha rischio da spostare nella race Romoli. La proposta è stata presentata dal presidente della provincia, dal gestore della struttura. Avezzano, Tribunale, gli avvocati si mobilitano. A Sulmona, quattro feriti nello scontro tra auto. E poi in Serie D per lo sport, l'Aquila a due punti dalla vetta. Rosso-Blu pari in casa, l'Avezzano sbanca città di Castello. E ora andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara. Ben in vendita, la provincia in crisi cede sedie e terreni. Piano di alienazione da 13 milioni per far quadrare i conti in rosso. All'asta anche la caserma dei Vigili del Fuoco. BCC in festa, 2.700 soci. Siamo forti, dice il presidente Savini. E poi Montesilvano, furti nelle case, spariti gioielli e telefonini. Per lo sport in basso, un viaggio all'interno della crisi del Pescara. Pescara bocciato ma non è finita. Per sperare nella salvezza a gennaio bisogna investire. Questo per conto riguarda il centro nelle quattro edizioni provinciali. Adesso andiamo a vedere il messaggero Abruzzo, il titolo di apertura della prima pagina. Sisma rinasce la chiesa simbolo. L'Aquila da oggi via le impalcature dalle anime sante. La facciata visibile entro Natale ma il restauro resta incompleto. Da trovare 2,5 milioni per cupola e il resto dell'edificio. Sotto la testata c'è lo sport. Pescara serve il carattere. Teramo punto a Parma. Per il basket, Sharks vincenti contro Iesi. Proger K.O. a Verona per la Serie D. E quindi torniamo al calcio. San Nicolò in testa, va stessa a ruota. L'Aquila pari e avvicina la vetta. Il Chieti in crisi societaria profonda. In cassa 5 gol a Castelfidardo. Avezzano si riscatta. Punto salvezza per il nuovo Pineto. Poi ancora di spalle all'occupazione torna in calo. L'Abruzzo perde 14 mila posti. Annullata la crescita dei primi sei mesi dell'anno. Più colpiti gli autonomi. Poi a centro pagina vediamo Chieti. Blue Parking chiede 5 milioni di danni al comune. La risoluzione del contratto è illegittima. La gestione degli spazi sosta a teat e servizi. Poi la fotonotizia. Pescara tessera sconti. I negozi sfidano gli Iper. card valida dal lunedì al mercoledì. Grandi risparmi. E poi in basso il caso Acqua Santa Croce si licenzia. Adesso possiamo procedere con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Come detto, grande spazio all'incarico dato dal capo dello Stato Mattarella, all'ex ministro Gentiloni, con l'avvio delle consultazioni. Siamo sul Corriere della Sera. In carico a Gentiloni sfida sui ministri. Divisioni sui verdignani. Il caso delle donne in bilico. Il premier designato ora la legge elettorale. Avviate le consultazioni. Lega e 5 Stelle non partecipano. Mattarella, serenità ritrovata. Renzi scriverà un libro. Poi c'è l'editoriale di Luciano Fontana. L'interesse del paese. E poi ancora, a centro pagina, la fotonotizia. Il dolore del padre della studentessa cinese uccisa a Roma. Vi prego, ditemi com'è morta mia figlia. E poi al Cairo, bomba in chiesa. Strage di cristiani durante la messa. Almeno 25 vittime. E poi in basso, congiuntivo, addio. Non è un dramma. Sabatini, presidente onorario della Crusca. Prima di noi, perso da inglesi, francesi e spagnoli. Avanti con Repubblica. Nasce il governo Gentiloni. L'ex ministro accetta l'incarico da Mattarella. Stessa maggioranza. Opposizioni indisponibili. Movimento 5 Stelle e Lega in piazza. Oggi i nomi della squadra. Alfano verso gli esteri. Cuperlo rifiuta l'istruzione. E poi ancora troviamo il punto di Stefano Folli. Quella discontinuità utile anche a Renzi. E poi ancora il voto e i dolori del giovane adulto. Di spalla per gli esteri nel quartiere generale della Le Pen. Si dice l'Eliseo non è impossibile. E poi ancora la fotonotizia al centro. Il Cairo ha tentato contro i cristiani nella cattedrale Copta. L'Isis riconquista Palmira. Inutili i bombardamenti russi. Possiamo andare avanti con il messaggero. Gentiloni cambia squadra. Il premier incaricato torna oggi da Mattarella con la lista. L'ultima sfida è sui ministeri. Alfano agli esteri. Minniti all'interno. L'ingresso dei verdignani serve la legge elettorale. E poi l'editoriale di Alessandro Campi. La chiave del ritorno. L'eredità di Renzi è la nuova stagione. E poi ancora in basso il metodo soft. Bisogna ricucire strappi nel paese. Dice lo stesso Gentiloni. La trattativa. Angelino chiese al PD di gestire l'immigrazione. Poi ancora il ritratto. Un tessitore che piace anche agli avversari. E poi le consegne. Lettera di Matteo Renzi. Ecco i dossier. E poi in basso per la cronaca. Mangia, fa il bagno e muore. Genitori indagati. L'accusa è di omicidio colposo. Per i PM la 14enne doveva essere fermata. Il giornale. Qui si gioca un po' su questo incrocio di nomi. Non lo farà soltanto il giornale. Lo faranno anche altre testate. Se non ricordo male il fatto quotidiano è libero. Gentil Renzi. Governo teleguidato. Gentiloni accetta l'incarico. Renzi piazza i suoi commissari. E sarà premier ombra. Ma nella maggioranza parte l'estremo assalto ai ministeri. Il Monte dei Paschi ci riprova con i bond. Per evitare il salvataggio di Stato. Poi dopo il falimento della sua riforma la Boschia è un caso umano. Non vuole lasciare la poltrona. Il post sdolcinato su Facebook. La notte social di Matteo. Scrittore da Mulino Bianco. Avanti con la stampa. Gentiloni parte nel segno di Renzi. Stessa maggioranza di prima. Impegno sulla legge elettorale. Oggi la squadra di governo. E poi a centropagina ovviamente la stampa quotidiano di Torino. dà grande spazio al derby della Mole di ieri. Doppio Iguain. Il derby è della Juve. Ecco qui il tempo. E anche in questo caso c'è un gioco di parole tra Renzi e Gentiloni. Renziloni. Governo fotocopia. Comanda sempre Renzi. I Gentiloni accettano l'incarico con riserva. Impazza il totoministri. Le opposizioni si sfilano e si preparano a scendere in piazza. E poi l'editoriale di Marcello Veneziani. Quello che ci meritiamo. Avanti ancora con il fatto quotidiano. Il governo Genticloni. Il premier incaricato ai diktat di Renzi. Esteri ad Alfano. Servizi a Lotti. E poi sotto la testata. Due stragi in due giorni. 25 morti cristiani al Cairo. E 38 a Istanbul. Esteri. Maldive. Paradiso perduto tra estremisti e corruzione. E poi storia di copertina. L'andrangheta parla romano. Sono famiglie radicate nel litorale laziale. Alle porte di Roma. Sono potenti. Organizzano lo spaccio. Comandano e danni su di loro. Sono aperte due inchieste. Ma tutto procede come prima. Avanti con il gazzettino. Gentiloni premier. Rebus. Ministri. Libero. E durerà almeno un anno. Aiuto è proprio lui. Gentiloni premier. Per grazia ricevuta. Risponderà a Renzi. E confermerà quasi tutti i suoi ministri. Ma Mattarella cercherà di non farlo obbedire all'ordine più importante di Matteo. Quello di dimettersi presto. E poi c'è questa intervista a Daria Bignardi. Politici diminuite le presenze tv. Chi vi vede, pensa, non lavorano. Il mattino. Il mattino Gentiloni il valzer dei ministri. E poi il quotidiano di Napoli. Chiaramente fa riferimento alla cinquina di ieri del Napoli. A Cagliari. Travolto con un supermerthens. Autore di una triplette. Poi Amsic Zieninski. Oggi il sorteggio Champions. Ricorda il mattino. La gazzetta del mezzogiorno. Gentiloni non dimentica Renzi. E poi il secolo XIX. Gentiloni. Governo. Sprint. Abbiamo esaurito così la rassegna delle prime pagine nazionali. Possiamo tornare sul centro. Ripartiamo dalla pagina dell'Abruzzo. Pagina 9. Tassi esagerati e rimborsi a 35.000 famiglie. Diritto riconosciuto a chi ha contratto mutui a indice variabile tra il 2005 e il 2008. E gli enti locali possono transare. Gli interessi sono stati ritenuti spropositati e chi li ha pagati può ora ricorrere al giudice. Grazie a un avvocato di Roseto e tramite anche l'associazione SOS Utenti. E poi ancora i dati sul terzo trimestre. Occupazione persi 14.000 posti. Il dossier di Ronci penalizzati il lavoro autonomo e i servizi. Treni. Debutta il nuovo orario. I pendolari lo provano per la prima volta tua. Corsa per Bologna. E agitazioni. Avanti ancora con la cronaca di Pescara. Beni in vendita. Provincia all'asta palazzi e terreni. Al via dismissioni da 13 milioni per far quadrare i conti in rosso. L'ente è pronto a disfarsi della caserma dei pompieri di decine di appartamenti e vecchie case cantoniere. Ed ecco il decreto del presidente della provincia. Avanti ancora piano contro i morosi da parte del comune di Pescara. Non pagate 25.000 multi. Il comune va a caccia degli evasori per recuperare 2,5 milioni di euro. Il comandante dei vigili Maggitti. Un multato su tre. Non salda il debito. Costretti ad avviare l'azione di accertamento. Stangata in arrivo. Avanti ancora per la cronaca. Aggressioni in chiesa. Tornano i fedeli ma la paura resta. Prima messa a San Donato dopo l'irruzione con le botte. Niente polizia ma il vice parroco rassicura. Siamo tutti maturi. Ancora con la cronaca. Siamo a Monte Silvano. Quattro furti in poche ore. Svuotata una cassaforte a Colle Corvino. Per essere ancora più precisi. Scopre i ladri in casa e li mette in fuga. Ma non evita il colpo da 10.000 euro. Altri tre episodi registrati a Monte Silvano. Portati via gioielli, orologi e telefonini. Avanti ancora con la cena di gala. La cena di Natale per i soci della BCC. Che fa festa con 2.700 invitati. Savini. Noi siamo forti. Appuntamento mondano per i soci dell'Istituto di Credito. Parata di imprenditori e politici. Premiati 36 studenti. Qui vediamo una serie di scatti che ritraggono la foto con la vasta platea di invitati. Siamo con la pagina della cronaca di Teramo. La buona sanità. A Teramo un centro nazionale per formare i neuroradiologi. Il reparto scelto come uno dei tre punti di riferimento in Italia potrebbe diventarlo in Europa. Il primario di Egidio abbiamo affinato le tecniche diagnostiche per seno e cuore. Apre in Kenya l'ospedale nato a Giulianova. Inaugurato il presidio realizzato con le raccolte fondi organizzate dal medico Calafiore. Siamo alla cronaca di Chieti. L'argomento è Megalò 2 via ai lavori per l'Argine. Opere finite in 40 giorni. Ruspe in azione per completare l'intervento sulla sponda del fiume Pescara. Il progettista Merlino nel parco commerciale previsti 450 posti di lavoro. E poi in basso Diocleziano. Il progetto c'è. Mancano i fondi. Lanciano 5 milioni di investimenti previsti dal comune per ascensore, parcheggio e pista ciclabile. Poi il ponte di via Custoza resta il dislivello. I dinisio. Autorizzateci a ripararlo. Poi per la cronaca in basso leggiamo queste due notizie. A pretoro ha denunciato l'uomo in jeep che ha distrutto il pistone. Poi accoltellò la ex. La verità da due perizie. Oggi il secondo test per stabilire la gravità delle lesioni inferte alla donna dall'ex compagno a Vasto. L'Aquila e Sulmona. All'Aquila la proposta in fatto di edilizia scolastica a Cotugno e alberghiero all'ex Reis Romoli. Lettera del gestore della megastruttura al presidente della provincia. L'iniziativa dopo le proteste e i timori sulla tenuta antisismica dei due istituti. Poi in basso gli studenti sfidano la rettrice. Domani il senato accademico modificherà lo statuto. L'UDU annuncia la mobilitazione. Poi va avanti la protesta per i call center. Ieri la contestazione allo stadio per il rinnovo della maxi commessa IMSS. Peraltro segnaliamo come ci sia stata piena solidarietà da parte del tecnico dell'Aquila Calcio Massimo Morgia che ha solidarizzato con i lavoratori del call center nel corso della partita indossando anche la loro maglietta di protesta. A Sulmona la BCC apre una filiale a Manopello l'istituto di credito di Prato alla Peligna. Dunque fa questa mossa. La presidente Rossi chiudiamo il 2016 con un bilancio positivo e attuando una coraggiosa politica di espansione. Poi per la cronaca sulla Statale 17 scontro tra due auto quattro feriti. L'incidente provocato da una delle vetture è finita contro il guardrail. Lasciamo il centro. Andiamo a sfogliare anche le pagine del messaggero. Poi andremo in pubblicità dopo aver visto anche il meteo. Ci ritroveremo nella seconda parte per lo sport per vedere anche diversi servizi. La pagina di Pescara del messaggero Abruzzo arriva alla tessera degli sconti. La città lancia la sfida agli iper. Prezzi ridotti dal lunedì al mercoledì per richiamare più clientela in centro. L'assessore Cuzzi è in sintonia. Aggiorni il bando per la Tourism Card a favore dei turisti. Nasce la Pescara Christmas Shopping Card da un'idea di Christian Summa con la Share City. E poi Natale da favola al massimo con l'associazione di Versuguali. La due pagine della cronaca dell'Aquila. Anime sante. Ecco la facciata ma alla fine dei lavori resta un rebus. Oggi al via lo smontaggio dell'impalcatore. L'obiettivo è restituire la visuale entro Natale. Per completare il restauro dell'edificio servono ancora 2,5 degli 8 milioni previsti. Non si riuscirà a terminare tutto entro marzo come stabilito ha dichiarato il rettore della chiesa Don Daniele Pinton. E poi verso le elezioni chiaramente al comune dell'Aquila. L'ipotesi Lolli si raffredda dopo il no al referendum. Vertice in casa PD. Il vicepresidente della regione allontana la candidatura a sindaco. E poi ancora siamo nella marsica viabilità. Ecco i fondi per le strade. L'esito del referendum sembra aver rilanciato il ruolo della provincia. Sono stati stanziati un bel po' di fondi. 30 mila euro per la segnalitica delle arterie del Fucino. Che specie di notte diventano delle pericolose trappole. L'assessore Cipollone ha deciso interventi massicci per tagliare rami e erbe. Anche per l'avvicinarsi del rischio neve. Andiamo avanti con le pagine di Chieti e di Teramo. La Blue Parking chiede i danni al comune per 5 milioni di euro. La Giunta ci riprova a dare a te dei servizi la gestione dei parcheggi a pagamento. Dopo la sonora bocciatura da parte del Tarro ora si attende un parere dai tecnici del Lanci. Per la società presieduta da Marco Tuglio è illegittima la risoluzione del contratto. Fra le motivazioni della citazione il diminuito numero dei posti auto e il vincolo urbanistico non rinnovato. E poi in basso una sezione musicale al liceo Galilei di Lanciano. L'amministrazione comunale ha dato piena adesione al progetto avanzato dallo scientifico. E poi staccati gas e luce al Cotir. Febbo tuona contro la regione per la vicenda del Cotir di Vasto. E poi ancora nella pagina della cronaca di Teramo raccolta differenziata ritardi in troppi comuni. Solo 19 centri su 45 hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle normative. Brilla Torrano Nuovo. Il suo è il migliore risultato ottenuto in tutta la regione. Il responsabile Franco Gerardini. Alcune aziende sono diventate solo stipendifici. Bisogna cambiare, dice Gerardini. E poi Enteporto. Il presidente può ancora aspettare l'Enteporto di Giulianova. L'assemblea stasera confermerà che bisogna procedere con i curricula. E poi in basso il caso. Guado di Carapollo chiuso. Parte la petizione dei cittadini. Corona del nuovo centrodestra. Il comune deve acquisire quel tratto di strada e protesta sbraccia. Tutto questo a Teramo. A Roseto consigli di quartiere e viabilità. I casi spinosi arrivano in consiglio. Noi ci fermiamo qui per la rassegna stampa. Per le pagine di cronaca dei quotidiani locali. Ora spazio al meteo. Poi la pubblicità. E poi torneremo con lo sport. Rassegna stampa. Più servizi. Ben ritrovati con la rassegna stampa di mattino 6. Possiamo andare con le pagine dello sport partendo dalla Gazzetta. Ecco la prima pagina. La legge di Golzalo. Il toro spaventa la Juve ma poi arriva la legge del Pipita. Iguain timbra il derby con una doppietta dopo l'illusione dei Granata. In vantaggio con Belotti. Decisivi i cambi bianconeri. E poi ancora il commento di Luca Calamai. Il peso del mercato. E il mago Max. C'è l'analisi anche di Alessandro De Calò. Il bivio sorteggio. E l'oro di CR7. Tutto fa brozzo sotto la testata. L'Inter stand. Il Genoa. 1-2 del Croato dopo la contestazione. Cominciamo a saper soffrire dice il tecnico Pioli. Che Roma-Milan. Spalletti-Montella. Una notte è una sfida totale. Fuori l'anti-Juve. Il giallorosso siamo noi i favoriti. Il rosso-nero noi qui. Non per caso. Ed è anche una sfida tra bomber. Gianluca Lapadula. L'ex biancazzurro. L'ex biancorosso. Contro Gieco. Il bomber della Roma. Manita del Napoli. Mertens lo trascina. A meno uno dal terzo posto. Il Cagliari affonda. L'Udinese fa cadere ancora l'Atalanta. Pellissier. Cento reti in A. Con il Chievo. E poi Champions. Allegri e Sarri pescano nell'urna. Ore 12. Real. Bayern City. Sotto a chi tocca. Rapidissima sfogliata interna. Implacabile. Juve. Sofferenza ed estasi. Toro folgorato da Higuain. Ed è lui il protagonista della giornata. Una furia sullo scudetto da Pipita. a Matador. Avanti ancora con le pagine sul big match di questa sera. Roma-Milan. Ore 21 all'Olimpico. Cercasi anti-Juve. La sfida degli opposti estremi. Progressista la Roma e conservatore il Milan. Ma entrambe seconde. Sino a oggi. E poi ancora. Spalletti sicuro. Noi costruiti per vincere. Loro invece no. Montella punge. Caro Luciano dovevi farmi giocare di più. Avanti ancora con l'Inter. Medaglia di Brozzo. L'Inter soffre ma passa. Due tiri e due gol in 69 minuti contro un Genoa Sprecone. Il protagonista è chiaramente il centrocampista croato. Una doppietta epic. Però il croato pazzo ha un futuro incerto. E poi anche il Napoli. Ieri molto bene. Un Napoli perfetto. Manita al Cagliari. Terzo posto ha un punto. Altro che falso centra avanti. Un 2 Dries. Con un Mertens così. Il problema del 9. O del 9 come molti dicono. Non c'è. Possiamo fermarci qui con la gazzetta dello sport. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere dello Sport. Prima di passare ai quotidiani locali e di vedere anche diversi servizi. Partiremo dalla partita del Tardini di Parma di ieri tra Parma e Teramo. Stiamo aspettando l'opportunità di vedere la prima pagina del Corriere dello Sport. Se insomma non ci riusciamo andiamo avanti. Eccola qui. Spidi, Gonzalo. Toro in vantaggio con Belotti. Poi si scatena l'argentino. Mi sono fatto un bel regalo per il mio compleanno. Dice appunto Higuain. Bianconeri a più 7. Favolosa doppietta di Higuain. Sigillo di Pianici. Il derby è una Juve che corre forte e fa il vuoto. Stasera Roma-Milan decide chi è l'anti-Juve. C'è anche l'opinione di Alessandro Vocalelli. La forza di Higuain. L'ascesa di Rugani. I meriti di Allegri. Napoli e Super Mertens. Brozovic risolleva l'Inter. Gli azzurri fanno 5 goli al Cagliari. Il talento croato affonda il Genoa. E poi di spalla per i sorteggi Champions. Leggiamo per Allegri e Sarri. Il pericolo è Ronaldo. Alle 12 gli ottavi. Occhio al Bayern. In Europa League. Ansia per la Roma e la Fiorentina. Possiamo lasciare dunque il Corriere dello Sport. La prima pagina del Corriere dello Sport. Torniamo ai quotidiani locali. Siamo all'inserto 9 di sport del centro. Pescara bocciato. Ma non è finita. Servono diversi rinforzi per porre rimedio agli errori estivi. La zona salvezza è a tre punti. E poi il calcio di Lega Pro. Il Teramo di Zauli riparte con un bel pareggio a Parma. A Montesilvano. Qui parliamo di podismo. Mezza maratona sul chilometro lanciato. Il grande giorno di Adugna. Palla a volo di A2. La Sieco sconfitta con onore. Prende un punto in Toscana. Sieco sconfitta Santa Croce al quinto set. 15-13. Basket di A2. Roseto fa festa contro Iesi. La Proger cade. E poi per i direttanti. Serie D. L'Aquila rallenta. San Nicolò da applausi. Vastese di forza. Eccellenza. Cinquina Francavilla è campione d'inverno. Ma il Martinsicuro c'è. Promozione. Poker Giulianova. E la capolista stacca la Torrese. E dunque ripartiamo dalla Serie A e dalla crisi del Pescara. Servono investimenti e la zona salvezza è a tre punti. La lezione di quattro anni fa non è servita. Ancora tanti errori del club. Poi il centro analizza questa crisi sotto diverse sfaccettature. Le rivali aspettano ma serve una svolta a Crotone. 67% di possesso palla sterile. Il centro parla di paradossi nella lotta per non retrocedere. Stasera la festa di Natale con Toni di Messi. Pepe in dubbio per la gara col Bologna. Viaggi in Brasile, Polonia e Belgio. Ma il mercato è legato ai risultati. Cercasi centravanti. Pepe preferito di nuovo a Manai. Restituire l'albanese all'Inter. È giusto. E poi questo record che sicuramente non fa piacere. Il peggior Pescara della Serie A. Ora è famoso anche in Europa. Unica squadra senza vittorie nei dieci tornei top del continente. C'è anche il baffo del Delfino di Antonio De Donardis. Mezza squadra da rifare ma con Oddo. Avanti ancora. Elezioni fisici Abruzzo. Ortolano D'Amico. Duello tra veleni e carte bollate. Sabato mattina all'Assemblea. Ma domani il Coni decide sul ricorso dello sfidante. La convocazione può essere annullata. Sono 346. Le società aventi diritto al voto. E poi per la Lega Pro pareggio d'oro. Terramo personalità e attenzione a Parma. Una prova d'applausi. Il vantaggio firmato da Ilari che sfiora la doppietta nel finale annullato in pochi minuti da un rigore per mani di Capitario. Il ritorno di Zauli porta grossi cambiamenti con scelte azzeccate e coraggiose dall'undici iniziale. Fuori Sansovini, Caidi e Petrella. Ci sono le pagelle. Di Paolo Antonio fa una partita strepitosa secondo il centro. Voto 7,5 per Di Paolo Antonio. C'è anche il 7 per Ilari. 6,5 per Carraro. I migliori secondo il centro. C'è anche un 6,5 per Speranza. E poi le dichiarazioni. Zauli, uno spirito eccezionale. Questa è la strada giusta. Le parole anche di colui che ha segnato il gol del meritato del vantaggio illusorio. Ovvero Ilari, meritiamo di uscire dalla brutta situazione di classifica. Parla anche il tecnico abruzzese del Parma, l'ex Virtus Lanciano Roberto D'Aversa. Non dobbiamo avere paura. Secondo tempo completamente negativo. E allora, riviviamo le fasi salienti della partita giocata ieri al Tardini. L'esordio bis di Lamberto Zauli sulla panchina del Teramo inizia con un pareggio. E che pareggio al Tardini di Parma contro i gialloblu guidati da Roberto D'Aversa. Tante le sorprese nell'undici di partenza del tecnico. Fuori Caidi, Sanzovini e Petrella. Dentro Capitanio, Croce e Fratangelo. Dei Ducali evacuo per lo squalificato Calaiò. La prima occasione per i parroni di casa col piazzato dell'ex Aquilano Corapi che sorvola lo specchio della porta di Rossi. Ma al sedicesimo il diavolo mette il naso avanti a sorpresa. Ma poi neppure troppo. Traversone dalla sinistra di Dorazio. Croce non aggancia. Ilari prima svirgola. Ma poi anticipa il compagno di scuola in spaccata. Batte Zomers e regala il vantaggio al Teramo. Prova sotto la curva dei sostenitori biancorossi. Per lui terzo centro in stagione. Risposta blanda da parte Parmenze. Con Corapi ancora lui. Che svirgola col sinistro senza far male a Rossi. Ma è ancora la squadra di Zauli a farsi vedere. Con lo schema da piazzato di Di Paolo Antonio. Che chiama Carraro alla conclusione insidiosa. Che termina non lontano dalla porta ducale. Con Zomers che si distende e controlla. La beffa però arriva alla mezz'ora. Corapi scodella dal fondo. Scavone prova la girata aerea ma non colpisce la sfera. Capitanio allarga le braccia e tocca il pallone col braccio sinistro due volte. Per Schiru non ci sono dubbi. Calcio di rigore dal dischetto. Evacuo. Spiazza Rossi e non sbaglia. Trasforma dagli 11 metri. Ristabilisce la palità. Nella ripresa ancora Teramo sugli scudi. Traversone dalla destra. Ma mazzocchi è provvidenziale ad anticipare Croce. Che avrebbe sparato a quel punto. A botta sicura. Barai al 65esimo prova col sinistro dalla distanza senza guardare lo specchio. Il parma di D'Aversa spinge alla ricerca del vantaggio. Ma Rossi non solo non deve dannarsi l'anima. Anzi è il Teramo ad andare davvero vicinissimo al colpaccio. Con Ilari che raccoglie l'apertura di Croce. E chiama ancora una volta Zomers alla paratona salva risultato. Prima della girata di testa al lato di Guazzo a tempo quasi scaduto. Finisce 1-1 per il Teramo. Un punto che fa molto più morale che classifica. L'esordio bis di Zaoli va in archivo in maniera positiva. Diavolo che sale a 17 punti in graduatoria. Chiude una settimana tribolata come spesso gli è capitato quest'anno. E domenica avrà il match interno del Bonolis. Ultimo del girone d'andata contro la Feralpi Salò. E ora ripartiamo dal messaggero Abruzzo. Pescara fuori il carattere. I limiti tecnici dei Biancazzurri ormai erano già chiari. Non ci si aspettava invece un simile deficit di personalità. A gennaio potrebbe esserci una vera e propria curazione. Ma intanto bisogna almeno limitare i danni in fase difensiva. Attaccante e difensore restano le priorità del Pescara. Chiaramente in chiave mercato. Una sola volta su 16 gari il Delfino ha tenuto la porta inviolata. E questa è la vera urgenza per il tecnico Oddo. E si ribadisce anche sul messaggero come il fatto di avere zero vittorie in campionato sia un record addirittura europeo. Un record negativo chiaramente per il Pescara. Break con il rugby in basso. Troiani e l'Aquila pronti a giocarsi la promozione dopo l'importante vittoria nel derby. Sale l'ottimismo tra i neroverdi che però dovranno tornare sul mercato. Il messaggero sul pareggio del Teramo. Ilari Gol, il Teramo centra il pareggio. Finisce 1-1 a Parma. Un ottimo risultato per i biancorossi delle rientrante Zauli in panchina. Gli scaligeri rimediano grazie ad un calcio di rigore di Evaco. Forse sarebbe più corretto dire i Ducali. Dunque finisce 1-1. C'è la soddisfazione per Zauli. Siamo stati un gruppo. Abbiamo giocato ad armi pari contro una super corazzata. Ilari che emozione segnare in questo stadio. In basso c'è la promozione. Real Giulianova un poker nel segno di Tozzi Borsoi sul campo del controguerra. Scendiamo in serie D. Andiamo a vedere in particolare le squadre del Girone G. L'Aquila. Occasione sprecata. I Rossoblu dominano e falliscono tante occasioni da gol con il Trestina. E devono accontentarsi di un solo punto. 1-1. Mincler e i compagni sfruttano solo in parte la sconfitta sorpresa del Rieti. Ma recuperano comunque un punto sulla capolista. Le parole di Morgia. Arbitro troppo permissivo. Il tecnico a sostegno dei lavoratori del call center Transcom ha rischio licenziamento. E poi per quanto riguarda la trasferta vincente dell'Avezzano. Leto, Marolda e Serrago. Terno secco dell'Avezzano a città di Castello. Vediamo anche il centro sulle due squadre del Girone G. Ecco qui. L'Avezzano si rialza con il Tris in Umbria. I biancoverdi, reduci da due sconfitte di fila, demoliscono il città di Castello. In gol i nuovi acquisti Marolda e Serrago. Le parole del tecnico Tortor, agevolati dall'espulsione, ma siamo stati abili sotto porta. E poi la pagina sull'Aquila che pareggia, ma avvicina la vetta. Rosso-Blu in gol con Sieno, raggiunti dal Trestina. Nell'unica indecisione la capolista Rieti perde ed è avanti di soli due punti. Vediamo i promossi del centro in casa all'Aquila, Ferdinando Sieno, l'autore del gol, e poi Giorgio Lavista, tra i migliori in stagione dell'Aquila Calcio. Da rivedere invece l'ultimo acquisto, l'attaccante Daniele Noman, appena prelevato dalla Nocerina, e poi Simone Minincleri. In basso anche qui troviamo questa sottolineatura, cioè il fatto che il tecnico Morge sia stato solidare con i lavoratori a rischio. Il tecnico indossa la maglia a sosegno della vertenza dei call center. E allora andiamo a vedere proprio le immagini relative al pareggio dell'Aquila contro lo Sporting Trestina e alla vittoria in trasferta dell'Avezzano a Città di Castello. Termina 1-1 al Gran Sasso d'Italia. Italo acconcia tra l'Aquila Calcio e lo Sporting Trestina e sfuma la possibilità per il Rosso-Blu di conquistare la testa della classifica. Una partita condotta in attacco per l'Aquila Calcio con almeno 10 nette occasioni di gol. La prima emozione arriva al sesto minuto, su calcio di punizione battuto da Minincleri, che di poco non c'entra alla porta di Matteo Vadi. Poi ancora il diciassettesimo con Russo, solo davanti al portiere, tira fuori. Al ventesimo è Capitan La Vista che calcia al volo, servito da Noman, ma il portiere intercetta. Dopo punizioni, calci d'angolo, pressioni, tiri a vuoto, al quarantasettesimo arriva finalmente il gol dei padroni di casa con Ferdinando Sieno, che sul rimpallo intercetta e tira una bordata dai 30 metri, che gonfia all'angolo basso della rete di Vadi. Il secondo tempo riprende tirato e con l'Aquila che forza, creando moltissimo a centro campo. Ma la Trestina si difende in modo ordinato e compatto con la modifica dell'assetto, un 5-3-2. L'intuizione di mister Zampagna gli dà ragione. Sale Manuel Seleppico che, all'undicesimo, sorprende la difesa dell'Aquila e gonfia la rete di Farroni. Il pareggio è una doccia fredda. Morgia rinforza l'attacco con l'entrata di Valenti, affila il tridente. Ma il nuovo acquisto, Noman, fa difficoltà a entrare in partita, lisciando diversi palloni. Un blocco comprensibile per una partita d'esordio. Negli ultimi 20 minuti di gioco, l'Aquila non si risparmia un passo pur di arrivare al secondo gol. Al 29esimo, invece, arriva l'espulsione dell'allenatore della Trestina. E' così che mister Zampagna, protestando per un presunto fallo, torna anzitempo negli spogliatoi. E' ancora Russo che al trentesimo cerca il gol solo davanti al portiere, ma la palla è alta. Al 35esimo si vede Noman che, ingirata calcia, ma non c'entra la porta. La Trestina, sempre più chiusa e pericolosa sulle ripartenze, fa temere il peggio per l'Aquila con due azioni molto pericolose al trentunesimo e al trentaquattresimo. Neanche 5 minuti di recupero sono utili all'Aquila Calcio per la vittoria in una delle partite più giocate del campionato. Un film già visto, quello andato di scena al Bernicchi, con i giovani del Città di Castello che danno il 100% in campo e con l'Avezzano che raccoglie l'intera posta in palio. Senza storie, il risultato di 3-0 dell'Avezzano nei confronti della squadra di Silvano Fiorucci. La prima occasione della partita giunge al sesto minuto, punizione di vida per il Città di Castello che sorvola la traversa. Passano una manciata di minuti e l'Avezzano castiga i padroni di casa dagli 11 metri. Partita infatti in salita per gli uomini di Fiorucci al tredicesimo quando Dida atterra nel cuore dell'area di Genova e l'arbitro a Campura di Ercolano indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso per il giocatore bianco-rosso. Dagli 11 metri Leto spiazza Cosimetti e porta in vantaggio la formazione aquilana. Sotto di un golle con un uomo in meno il Città di Castello subisce due minuti dopo anche il raddoppio. C'è ancora lo zampino di Leto che effettua dalla sinistra il tiro cross. Cosimetti non riesce a neutralizzare il pericolo e Marolda spedisce la palla in fondo al sacco per il 2-0 dell'Avezzano. Al 43esimo sfiora il Tris, l'Avezzano con un tiro di Serrago, respinge goffamente Cosimetti e Marolda cincischia da due passi. La ripresa si riaccende al quarto minuto con una verticalizzazione di Deramo per Marolda che a tu per tu con Cosimetti non riesce a concretizzare l'azione sfuma. Al 22esimo ci prova il Città di Castello con un'azione che culmina con un tiro dalla distanza di Broccatelli da poco entrato ma Lewandowski argina il pericolo. Al 27esimo Città di Castello che potrebbe raddrizzare la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato di Macagno. Lewandowski non trattene la palla e Diego Calderini non riesce ad approfittarne da due passi. Ma al 33esimo mette i lucchetti al risultato l'Avezzano con Serrago che non perdona Cosimetti e realizza il Tris bianco-verde. Risultato in cassaforte è Avezzano che batte Città di Castello al Bernicchi per 3-0. Sul messaggero San Nicolò al comando battuto di San Marino per 1-0. Il tredicesimo risultato utile consecutivo sorpasso sul Matelica finito K.O. in casa. Decisivo il gol di Chiacchiarelli dopo 10 minuti. Epifani vogliamo basso senza montarci la testa. E poi punto di partenza del nuovo Pineto. A Malo guardare il bicchiere mezzo pieno ci sono progressi. 0-0 è finita tra Pineto e Re Canatese. De Bacle chiedi a Castelfidardo ma era un miracolo già giocarsi. Era 5-0 la vittoria della squadra marchigiana. Prossima squadra tra l'altro dell'allenatore ex Teramo Roberto Cappellacci. E poi Vastese Cinica è seconda. Battuta la Civitanovese per 1-0 decide un gol di Cosenza nel secondo tempo. Festa grande con i tifosi allo stadio. I ragazzi di Colavitto all'ottavo risultato utile consecutivo. Campionato equilibrato ma io sono molto soddisfatto. Nonostante l'assenza di tre pedine fondamentali è arrivata la vittoria. Andiamo a vedere anche qui i riflessi filmati delle vittorie di misura di San Nicolò e Vastese. E il pareggio senza gol del Pineto. Vittoria è primato solitario in classifica per il San Nicolò che batte con un gol di Chiacchiarelli il San Marino e si issa da solo in vetta al girone F. Sono gli ospiti di Pino Di Meo ad avere però subito una buona occasione di passare in vantaggio. Ma dagli sviluppi di un calcio di punizione Guidi trova Milillo a murare di Fattociotti. Se il Titano preme il San Nicolò è cinico abbastanza da passare in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo per gli ospiti Bisegna fa partire l'azione di contropiede servendo Stivaletta sulla corsa. Il centrocampista poi mette in mezzo verso Chiacchiarelli che firma il primo gol stagionale ed il vantaggio dei Biancazutri. Il San Marino è vivo. Al 27esimo è la traversa di Redinò a Buonocunto mentre qualche minuto più tardi ci pensa Ciotti a mandare in angolo un calcio di punizione con traiettoria interessante battuta da Mazzotta. In mezzo c'è anche un legno sponda San Nicolò. Chiacchiarelli si mette il pallone sul destro e fa partire un tiro a giro che coglie l'incrocio dei pali a Dini battuto. Ad inizio ripresa la scuola di Epifani sfiora il raddoppio quando Massetti prova ad indirizzare al volo un cross di Chiacchiarelli dalla sinistra ma la palla termina di poco a lato. Dall'altra parte Olcese si devora invece poco dopo il gol da bello schema del Titano. L'ex Teramo indirizza però il passaggio di Buonocunto fuori. I Biancazzurri sembra voler controllare con gli ospedi che provano a rendersi pericolosi con Braccini e con un tiro dalla distanza di Olcese. E Massetti però al diciannovesimo a provare con un pallonetto a far male a Dini. La sfera termina alta. Cinque minuti dopo proteste della scuola di Epifani per un contatto dubbio in area di cui è protagonista Moretti che viene atterrato. Il direttore di gara però lascia proseguire. I Biancazzurri poi si limitano a controllare gli avversari nell'inutile tentativo di pressione del finale con il San Marino che perde Fantini pochi istanti prima della fine per un fallo in gioco pericoloso su De Santis. Per il San Nicolò una vittoria che vale non solo il primato solitario ma anche il tredicesimo risultato utile consecutivo. A fine gara l'omaggio della squadra a Napolano seduto in tribuna con la stagione praticamente finita la sua dopo la lesione del crociato. La vastese non stecca la seconda gara casalinga consecutiva allo stadio Aragona dopo il pari con polemiche contro il San Nicolò arrivano tre punti pesantissimi al cospetto di un'ostica civita novese, tre punti che valgono il secondo posto alla vigilia della gara che profuma quasi di derby in casa dell'Agnonese domenica prossima. Con il neoacquisto romano in campo dal primo minuto e Galizia al posto dello squalificato Prisco i bianco-rossi privi anche di Manzo e di Pietro partono bene con la civita novese che al quattordicesimo deve già sostituire l'infortunato Progna con Di Natale. Al quarto d'ore dunque un minuto dopo su angolo di Fiore all'occa di testa colpisce in pieno la traversa con la palla che poi torna in campo prima di essere allontanata dai difensori ospiti. Al diciottesimo vastese pericolosa con Mensa che crossa per Felici che gira di testa però a lato. La vastese preme e quando preme lo fa creando pericoli dalle parti di Vassallo. Al ventesimo c'è un tiro cross di Galizia e il salvataggio quasi sulla linea di Tortelli. Al ventiduesimo ci riprova Capitana Locca questa volta con un tiro dall'interno dell'area di rigore con la palla che sfiora di poco la traversa. Poi però i bianco-rossi pur mantenendo le redini dell'incontro perdono un po' di smalto chiudendo il primo tempo senza altre occasioni. Il secondo tempo si apre al secondo con un grosso spavento per la formazione di casa. Battisti crossa infatti a centroarea per Rapagnani che di testa colpisce in pieno la traversa con la palla che poi finisce sulla linea bianca. La Civitanovese sembra più propositiva e al quarto minuto si rende ancora pericolosa con un tiro al lato di Negro. La risposta all'ottavo della vastese è affidata al piede vellutato di Fiore che su punizione chiama alla respinta con i pugni Vassallo. La partita non è semplice per l'undici di Colavitto costretto ad attaccare ma allo stesso tempo a non scoprirsi. Al quattordicesimo c'è però un'opportunità con Felici che in area calcia al lato. Il gol è nell'area e arriva un minuto dopo con Cosenza che scatta sul filo del fuorigioco e di piatto mette alle spalle dell'incolpevole portiere Martigiano per l'1-0. La squadra di Caneo non ci sta e al diciottesimo è Negro di testa a chiamare alla parata plastica russo. Al ventiduesimo Colavitto manda in campo Martinelli per Galizia che non prende bene il cambio uscendo dal campo e imprecando contro Colavitto che però non fa una piega. Nelle finale la squadra aragonese corre un rischio poi al quarantaseiesimo con un tiro di Negro che chiama alla respinta russo prima della festa per una vittoria che continua a far sognare i tifosi bianco-rossi. Termina a reti inviolate lo scontro diretto per la salvezza tra Pineto e Re Canatesi è un pareggio tutto sommato giusto che accontenta entrambe ma non fa felici nessuno. Terza partita di una settimana intensa che in casa Pineto si è conclusa con l'arrivo alla corte del presidente Brocco del centravanti ex L'Aquila Massimo Ganci schierato dal primo minuto in coppia con Palumbo nel 4-4-2 dall'ex Amaolo che ha guidato la Re Canatesi nella stagione 2014-2015. Assenza importante tra le fila dei padroni di casa quella dello squalificato cacciatore. Possanzini invece deve rinunciare a Fioretti out da quattro turni per un problema muscolare e schiera nel 4-4-1-1 il neo arrivato De Gano alle spalle della prima punta Villanova. Prima frazione a pannaggio dei locali la prima occasione al settimo con l'ex Mariani che calcia dalla bandierina per Palumbo il colpo di testa è alto sopra la traversa azione fotocopia che si ripete ancora qualche minuto più tardi ma la sfera lambisce il palo e termina a lato. Ancora Palumbo tra i più attivi al 28esimo va in gol ma l'arbitro annulla per offside. Il numero 10 ci prova anche dalla grande distanza ma la conclusione è fuori bersaglio. Al 38esimo si vede la Re Canatese in avanti con Senigalliesi che calcia dal limite con la sfera che sorbolla la traversa. Nel finale di frazione l'occasione più ghiotta dei primi 45 minuti in favore dei giallorossi leopardiani. Punizione di De Gano dal vertice sinistro dell'area in mezzo è scivolata di Dominici che non trova il tapin vincente. La partita non spettacolare sul piano del gioco è tatticamente bloccata tra due squadre che non vogliono perdere. In avvio di ripresa Emili mette in movimento Ganci il colpo di tacco spettacolare che non viene però raccolto da Palumbo. Poi il centravanti prova in rovesciata ma senza fortuna. Al 19esimo la Re Canatese va in gol con De Gano che raccoglie la respinta di Mazzocchetti sulla conclusione di Villanova ma l'arbitro anche questa volta annulla per posizione di fuorigioco. Nella fase centrale girandola di sostituzioni per i due tecnici Amaolo inserisce D'Angelo, Cercelluti e Stacchiotti per Ganci, Logoluso e Malocu. Postanzini richiama a sé Gabrielli e Dominici per far spazio a Lauria e Papavero ma la gara scivola via sul filo dell'equilibrio senza regalare grosse emozioni. Nel finale botta e risposta tra Senigalliesi che in diagonale impegna Mazzocchetti e Cercelluti che si gira bene ma non riesce a colpire con forza la sfera favorendo la parata a terra di Fogliera. Il Pineto riesce così a tenere sotto in classifica l'area canatese e a guadagnare un punto dal quale ripartire in vista della trasferta contro la corazzata matelica. Ultimi minuti della segna stampa torniamo sul centro per il campionato di eccellenza Martinsicuro non molla la presa e Biancazzurri superano il Morrodoro con un gol di Conè e al giro di Boa restano un punto dalla vetta anche perché il Francavilla capolista fa manita sul campo della Virtus Teramo e dunque c'entra il titolo di inverno. Ecco qui la classifica 38 punti per il Francavilla 37 per il Martinsicuro più staccate alba adriatica angolana e nerostellati per la palla a volo la grande impavida ma non basta ortonesi sconfitti al tie break a Santa Croce sull'Arno dai toscani guidati da Vermiglio domenica in casa contro Siena possiamo vedere i parziali 22-25 25-14 25-9 25-27 poi 15-13 al quinto decisivo sette le parole di Simoni gara strana Lanci invece è ottimista avanti con il basket a due agrodolce due punti facili con Iesi ossigeno per gli Sharks i Rosetani affrontano in scioltezza la terza partita in sette giorni e ci sono le parole di coach di Paolo Antonio ora ce la giocheremo su tutti i campi di Paolo Antonio fiducio sugli ultimi tre match dell'andata che mettono in paglio il posto in Coppa invece non basta Golden la Proger cade a Verona rammarico per i Teatini sempre avanti per tre quarti di gara sconfitta 68-64 l'uscita di piccoli ci ha condizionati il rimpianto di coach Massimo Galli rinviata alla sfida di domenica contro la Virtus Bologna e poi rapidamente anche la pagina sulla serie B di basket Amatori avanti con fatica i pescaresi soffrono più del previsto contro Val di Ceppo quinto successo di fila 88-77 invece Campli mai nel match incassa una sconfitta pesante a Sansevero 82-61 sesto sigillo per Leto Milu Giulianova che liquida il fanalino di coda Venafro 87-75 Wirortone a pezzi occasione sciupata nell'incontro con Senigallia partita persa 74-78 per il Girone C le altre partite che avevamo visto erano del Girone D Girone C la meta espugna Maddaloni in Terracampana la seconda vittoria esterna di Terramani 62-81 Maddaloni ultima della classe con appena due punti ci fermiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti informativi del TG6 alle ore 14 alle ore 19 alle ore 23 e poi l'appuntamento con il replay di Enrico Rocchi questa sera alle ore 21 per parlare del momento delicatissimo del Pescara con anche le dichiarazioni dalla festa di Natale della Pescara Calcio che si terrà questa sera nel padiglione del Marina di Pescara nel padiglione della Camera di Commercio a partire dalle ore 20 la trasmissione invece in diretta dalle ore 21 io ringrazio Gianni D'Areo in regia e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti